Sono a livello 40 e finalmente mi sono deciso di farmi il cavallo anche perché questo ragazzi come vedete sta scadendo Ieri con l'altro pg ho droppato una medaglia equitazione che è essenziale per ottenere il cavallo permanente Quindi ora andiamo dallo stalliere che si trova qui in alto Sono già in villo 2 perché la missione che mi darà si trova a svolgere in questo villaggio Ci parliamo diciamo voglio cavalcare si mi dice praticamente che ho già la medaglia equitazione E che dovrò ammazzare 20 arcieri selvaggi in 30 minuti se ci riuscirò mi darà la cavalcatura Io accetto e andiamo a farci questi arcieri che avendo già il cavallo dovremmo trovarli molto facilmente ci avanzerà anche del tempo penso Gli arcieri si dovrebbero trovare qui in basso in tanta quantità E mezz'ora non è affatto poca soprattutto se si parte già dal secondo villaggio E se non avete il cavallo è meglio partire dal secondo villaggio perché se partite dal primo ovviamente ci metterete una vita solamente a spostarvi Già col mio ci metto tantissimo che sono lento Lì c'è un metin In realtà Eh no 25 no se trovate uno al 35 spawnano però io vi consiglio comunque di ammazzarli così trovarli così che è meglio Qualche arciere ci potrebbe essere anche qui in realtà Mi pare che non ci sono no generale No però mi pare che spawnano anche qua eh Eccolo qui vedete c'è un arciere qua Uccidiamolo così almeno ne mancano 19 Col mio equipaggiamento dovrei farli fuori abbastanza in fretta anche se in realtà non sono molto forte eh quindi Qui ce n'è un altro e ci sono uno Ma quelli sono forti quindi quelli lì in realtà non serve farli Sì sono forti non servono Che è un altro forte però un altro normale che è ottimo Quindi facciamo fare anche questo e facciamo fare anche questi altri qua intorno Che magari si scheggia non si sa mai Però al 40 non penso che scheggio ancora da questi Ragazzi le schegge sono queste Servono per fare l'alchimia comunque Per chi non lo sapesse però Penso che molti di voi lo sanno Ok ci inoltriamo nella zona dove dovrebbero essercene un po' di più eh Qui dovrebbero essercene già di più di arcieri Teoricamente Arciere è quello lì Vabbè non serve neanche mettere aura Io metto aura della spada ma in realtà è l'abitudine In realtà non serve Arciere un altro Dai se ne trovano in buona quantità E' veramente molto facile la prima missione Del cavallo Io in realtà anche nelle run scorse non ho mai preso il cavallo medio Ma con questa ho deciso di farlo Ho deciso di prendere abbastanza medaglie per fare il cavallo medio Quindi ora mi metterò ogni giorno e farò una missione Mi pare che una al giorno puoi fare Ma qui ne interceri però Ah uno lì è quello lì Poi la tattica starebbe anche nel cambiare CH Se non li trovate in un CH Magari andate in un altro però vabbè Tanto ho mezz'ora quindi penso che sicuramente li troverò Qui ce n'è un altro Facciamolo fuori in modo agile Vendiamo anche gli Yang che sono un poveraccio Quindi Sono veramente povero ragazzi Oggi ho fatto 4kk vendendo questi tipi maledizione 2kk l'uno L'unico problema è che poi quelli serviranno per la missione del biologo E quindi vorrei anche tenermeli un po' Non so neanche quanti ne servono So che ne servono un po' di libri E poi anche per uppare varie armi Che anche quello non lo so Perché io Mi sono fermato al livello 41-42 ai tempi Quindi non ho mai uppato armi di livello molto alti Di livelli molto alti Ok qui un altro arciere Che va giù E poi lì sopra ce n'è un altro Mi facciamo un bel taglio a trevia Eh ho beccato il brutale qua C'è il brutale Come caldo si chiama? Non mi ricordo come si chiama Beh è il tizio lì Generale selvaggio Eh questo qui sarà Tipo il dodicesimo Una roba del genere Ah il mercante ambulante Ma cosa è che vende il mercante ambulante? Non mi ricordo Ah per sposarsi Vabbè ottimo Per sposarsi ottimo Manca l'anello di fidanzamento Che se non erro si fa da una missione Qui un altro arciere Che mi sa che ha appena spawnato oltretutto E facciamoli fuori un po' Che magari spawnano altri L'unico problema è che vorrei sapere A quanto sono Solo che se io apro la missione Non mi dice a quanto sono arrivato Quindi boh Eh rimarrò col dubbio esistenziale Fin quando non la finisco Mi sa Opposto Dovei averla fatta eh Sì torna dallo stalliere Rifresce allo stalliere I risultati della missione Perfetto Come vedete Vabbè io ovviamente ho fatto molti tagli Ma ci ho messo veramente poco Fate conto che sono a dieci minuti Dalla registrazione Ma il tempo di fare l'intro e tutto Ci avrò messo più o meno cinque minuti Neanche Quindi ora Torniamo dallo stalliere E se non erro Dovremmo pagare Centomila young Per avere il cavallo Che mi arriverà domani Una roba del genere Vabbè essere Adesso vediamo che non mi ricordo Che sono passati secoli Da quando La feci ai tempi Hai portato a termine La prova con successo Per poter cavalcare Ti serve la licenza per cavalcare Te la posso preparare io Ma ci vorrà un po' di tempo Torna domani E non dimenticarti Che costa centomila young Quindi non mi sbagliavo Che costasse questa cifra qui Ok ottimo E quindi niente La missione ragazzi È stata fatta Devo tornare domani Che il cavallo Cioè la licenza per cavalcare Sarà pronta E io direi Che ci vediamo Ad un prossimo video E grazie di essere passati Ciao